25 anni di attività, 25 anni di impegno, ma soprattutto 25 anni di ricerca che hanno risolto davvero tantissimi problemi e si continua a lavorare. Noi sempre con grande tenacia, con molta dedizione. Sono 25 anni ed è un momento di grande emozione e di consapevolezza anche per aver dedicato tutti questi anni, tempo, impegno, energia per degli ideali verso AIRC per una causa così nobile e importante. Io spero di dover andare in pensione, questo significherebbe non dover più raccogliere fondi perché significa finalmente debellare questa malattia. AIRC insieme ad altre associazioni ovviamente che operano in altri settori rappresenta una specie di faro per molti di noi. La mia intiera carriera di ricercatore e di scienziato è basata su finanziamenti ricevuti grazie ad AIRC ed ha assicurato in questi anni una cosa molto importante, la continuità dei finanziamenti. Cioè si sa bene quando inviare i propri progetti di ricerca, si sa che i propri progetti di ricerca saranno valutati da scienziati capaci internazionali e si sa che questo ci sarà l'anno successivo. Qual è l'obiettivo che avete raggiunto di cui va più fiero? Io sono stato un privilegiato perché ho iniziato a lavorare su un settore che era molto promettente ma era molto sperimentale che è l'immunoterapia dei tumori. Oggi questo settore è diventato realtà, ha prodotto nuovi farmaci che sono in commercio, vengono utilizzati e che stanno dando dei risultati inattesi e che hanno aperto una nuova frontiera, sicuramente non più solo di ricerca ma molto traducibile, tradotta nella clinica. Si fa ogni anno la festa dell'Azzalea, quest'anno è l'8 maggio dove siamo in piazza perché con le Azzalee si finanzia la ricerca. Io stavo in un paese vicino Catania perché visitavo il giro delle piazze, vicino a Belpasso si chiama il paese. A questo banchetto dell'ARC si è presentato un vecchietto, un contadino, che ha detto io i 15 euro per l'Azzalea non ce l'ho, però ho 5 euro e voglio regalarveli comunque, che io ho trovato una situazione commovente dal punto di vista della generosità tipica dei siciliani. Bisogna dire che se non ci fosse stata l'ARC in questi anni probabilmente molte malattie non sarebbero state neanche scoperte o attenzionate. Il finanziamento della ricerca oncologica che dà il Ministero della Salute, più il CNR, il Consiglio Nazionale della Ricerca, più il Ministero dell'Università, tutti e tre insieme sono di meno di quello che fa l'ARC in campo oncologico. Se l'ARC non finanziasse più la ricerca, la ricerca italiana in campo oncologico sarebbe finita. Dio Benedica Gela è uno degli scatti più belli e significativi. Era scritto su un lenzuolo bianco mostrato dal portiere Daniele Pandolfo. Sì, perché in effetti l'aiuto deve giungere dall'alto, sulla terra, anzi sul terreno di gioco. Ci hanno già pensato loro, i giocatori che indossano una maglia bianca-azzurra. Il Gela ha conquistato la quinta promozione di seguito ed è approdato in Serie D una cavalcata trionfale, un giusto riconoscimento ad una squadra che ci ha sempre creduto anche in periodi neri. Finalmente Gela e il Gela ritornano nel calcio che conta. Dopo anni di purgatorio, ricordiamo che si è ripartiti dalla terza categoria, il club bianca-azzurro di strada ne ha fatta tantissima ed ieri, poco dopo le 17.45, si è brindato al salto di categoria. Lo striscione dei tifosi era eloquente per questa curva che c'è sempre stata. Vinci e continua la scalata. Pubblico ieri delle grandi occasioni al Presti, stadio pieno in ogni ordine di posto. Col Cus Palermo non c'è stata storia, 4-0 e promozione in Serie D. Due gol per tempo, al 13esimo Nassi, al 26esimo Mincica, poi nella ripresa, terzo sigillo di Alma e al 36esimo altra rete del bomber Nassi. E a fine partita è esplosa la gioia e il primo pensiero è stato per Carmelo Tuccio, fratello del Presidente, scomparso prematuramente il mese scorso. La dedica che abbiamo fatto dell'intero campionato a mio fratello Carmelo sia una cosa naturale e una vittoria della sua serenità, della sua gioia per la vita. E credo che lui ci stia aiutando parecchio da questo punto di vista, perché era una persona importante per tutti noi e il Gela Calcio era una delle sue creature e lo sarà per sempre. Il Gela ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, penso che questa cavalcata l'ha dimostrato facendo un buon calcio, andando a vincere lungo e largo la partita fuori casa, che magari se abbiamo avuto qualche difficoltà poi ci siamo ricompattati e sono molto felice, veramente una cosa impressionante. Quale regalo chiederà ora il Presidente Tuccio? La riconferma? Intanto ci godiamo questo meritato reposo e poi... In questo momento non ci penso più. A lei piacerebbe rimanere sulla panchina del Gela? Una piazza importante, che sinceramente ti fa provare delle emozioni incredibili, di un'adrenalina importante. Sono molto felice di rimanere qua. L'apoteosi dei tifosi è interessato anche Piazza Umberto I, caroselli di auto, bandiera al vento, il salotto della città si è colorato di bianco e azzurro. Gela riparte dalla Serie D. L'obiettivo è quello di ritornare in Lega Pro. Intanto godiamoci la festa. E' un giorno di festa, l'abbiamo atteso tanto a lungo questo giorno. Oggi finalmente è arrivato, siamo felicissimi che sia accaduto. Eravamo sicuri di raggiungere questo obiettivo, l'abbiamo dimostrato oggi. Fabio per sé è la terza promozione consecutiva, abbiamo detto non c'è due senza tre. La fame di vittorie è indescrivibile, quindi ogni anno ripartiremo sempre con più voglia e più carica. Oggi è stata una giornata indimendicabile. Questa vittoria della squadra, del campionato, tu in particolar modo a chi la dedichi? La dedico alla mia famiglia e la dedico a chi quest'anno ci ha lasciato e non è potuto stare oggi qui a sostenerci. Abbiamo Intercamp, ma cosa credevate? Io ho fatto tante partite nei professionisti, tante in B, ma questo è il campionato più bello in assoluto che ho vinto, che ho giocato da protagonista, io ci tenevo troppo, troppo a questa maglia, a questi tifosi, alla gente, a tutti, questo è il campionato più bello in assoluto. Sono veramente felice, felice per aver raggiunto un traguardo così importante, sofferto perché è stata una vittoria di campionato sofferta sin dall'inizio e credo che è stata oggi l'esplosione di gioia di tutti quanti. E più volte tu hai ripetuto che vincere con la maglia del Gela per te ha un significato più importante, per quale motivo? Intanto perché è un pubblico meraviglioso e l'abbiamo visto oggi perché in eccellenza veramente c'è un pubblico così importante. Per me era una grande scommessa venire a vincere qui a Gela e non era facile e ci sono riuscito. Quindi per me è un motivo d'orgoglio anche vincerlo da capitano. Voglio dedicare anche questa vittoria a tutti i tifosi nicemesi che oggi erano veramente in tanti, quindi abbiamo fatto questa unione e credo ci ha portato a questo splendido traguardo storico. Abbiamo fatto una cosa straordinaria insieme, tutti quanti insieme, tra società, giocatori, allenatori, tutti quanti componenti che ci hanno dato una mano a fare questo, quello che abbiamo concluso finora, la vittoria del campionato. Cirignotta, torniamo a parlare dei 32 milioni di euro di compensazione. Voi avete in mente una possibilità che è quella di poter stralciare una somma, sebbene minima, ma che potrebbe già dare una boccata d'ossigeno all'economia in sofferenza ormai da torpo tempo di Gela. Sì, in vista dell'incontro al Ministero sul protocollo chiederemo all'amministrazione comunale ufficialmente di farsi promotore di un'iniziativa per chiedere all'ENI di anticipare e stracciare una parte delle compensazioni, circa un terzo, riteniamo che possono essere sufficienti, per avviare nel più breve tempo possibile nella nostra città tre interventi che penso sono condivisibili da parte di tutta la cittadinanza, cioè quella della riqualificazione del portorifugio, la riqualificazione della seconda parte del lungomare e la realizzazione di un pianto per il trattamento del reflui da utilizzare poi in agricoltura. Inoltre voi tra le priorità tenete conto anche dei soggetti che sono ormai fuori dal mercato del lavoro e che difficilmente potrebbero trovare una ricollocazione. Sì, riteniamo che i cantieri che devono essere avviati con somme delle compensazioni quindi che sono previste all'interno del protocollo, tanto debbano seguire delle procedure burocratiche quanto più breve possibile per accelerare proprio l'avvio dei lavori per dare lavoro alla nostra città e poi non dimentichiamoci che sono di somme previste all'interno del protocollo d'intesa e bisogna tener conto sicuramente per quanto riguarda l'utilizzo della mano d'opera di tutti quei lavoratori che hanno lavorato per anni all'interno dall'indotto e che hanno perso lavoro e quindi non hanno come un reddito sufficiente per portare avanti il sostenimento delle proprie famiglie. Per fare chiarezza, Cilignotta, quali potrebbero essere i tempi per ipotizzare un avvio di questi lavori con l'utilizzo di questa quota parte delle compensazioni? Le autorizzazioni sulla bioraffineria sono state rilasciate. Il protocollo dice che in base allo stato di avanzamento del protocollo d'intesa poi l'Enea avrebbe messo a disposizione le somme della compensazione e quindi poiché i lavori della bioraffineria stanno per iniziare riteniamo che entro un breve tempo si possono mettere a disposizione queste somme della città per essere spese per dare un abboccato di ossigeno alla nostra economia. Una due giorni dedicata alla Sicilia, alla storia che ha vissuto la Sicilia moltissimo tempo fa, gloriosa storia che ha coinvolto anche in prima persona e in prima battuta Gela. È importante per il nostro territorio per ricordare, per rivivere, per avere un quadro sempre presente di quello che noi siamo stati perché solo attraverso la ricerca possiamo andare avanti e questo noi cerchiamo di fare come organizzazione di acquaria, cerchiamo di divulgare sempre e comunque la cultura. Su quale periodo storico si è concentrata la sua ricerca e qual è il momento storico che l'ha appassionata di più? La passione in genere è per tutta la storia greca perché altrimenti il nostro lavoro non si potrebbe fare senza la passione ed è anche in qualche maniera il motivo per cui noi siamo qui per la seconda volta, perché è la seconda edizione di Geloi e siamo felici e siamo anche motivati proprio dalla passione perché non c'è un'università qui. eppure vede che siamo docenti universitari sia italiani che stranieri, insieme siamo venuti a Gela, abbiamo scelto proprio Gela, invitati dalle varie associazioni, proprio per passione e per portare anche a casa delle persone di cui studiamo la storia, la loro storia e le nostre ricerche. I greci hanno scelto la Sicilia e Gela in particolare come punto di riferimento. Gela è stata davvero una città gloriosa, 2700 anni fa dalla fondazione ad oggi sono cambiate tantissime cose. Come si è evoluta la storia da allora e che cosa è rimasto secondo lei di quel mondo antico e glorioso in questa terra? La Gela ha avuto una storia abbastanza breve ma fu ricostruita come terra nuova eraclea da Federico II e era anche un'utopia e oggi c'è di nuovo ma è di recente Gela. Geloi I e adesso Geloi II rappresenta davvero un punto di riferimento della storia di Gela migliaia di anni fa ma dovrebbe essere un punto di partenza per una nuova era. Noi abbiamo una grande storia, una grande storia che ha avuto influenza non solo sulla Sicilia ma anche per buona parte della storia d'Occidente perché alla fine i riferimenti della storia greca, della Sicilia sono il fondamento della cultura europea, quindi la presa di coscienza di questo elemento e di questo fatto. Semplicemente straordinario, il giovane pianista giolese Alberto Ferro ieri sera al Teatro Comunale Eschilo ha incantato, ha eseguito per la sua città gli stessi spartiti che lo vedranno impegnato a maggio al Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali. Ha suonato tra gli altri brani di Chopin e Liszt. Qual è lo spartito a cui sei maggiormente legato? Più che spartito direi compositore. Diciamo che sto approfondendo la musica russa nelle esecuzioni di composizioni di grandi maestri come Sergei Rachmaninov, Dmitry Shostakovich, Sergei Prokofiev. Sono molto legato a questa musica, sicuramente anche grazie al mio maestro che mi ha trasmesso la passione. Adesso condividi con noi un sogno nel cassetto. Non lo vorrei dire, però spero, ecco, non per forza diciamo di vincere il Queen Elizabeth perché sarebbe veramente un sogno, però spero di dare il massimo e di ottenere tanta visibilità. E chissà magari di raccontare in musica attraverso una composizione tua questa tua esperienza, chi lo sa? Beh, ancora non ho pensato diciamo a fare il compositore perché ci vuole tanto tempo e ispirazione, però mi sto dedicando appunto ai concerti come esecutore slash interprete, però può capitare magari che in futuro mi dedicherò anche alla composizione. Quanta sicilianità c'è in Alberto Ferro, pianista in giro per il mondo? La sicilianità io penso sia simile, cioè dal punto di vista musicale, alla musicalità nel vero senso della parola. Siamo molto calorosi, ci lasciamo andare proprio l'interpretazione. Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto la musica in questi anni? Non mi ha tolto niente, sicuramente mi ha dato, non ho mai rinunciato al mio mestiere e cerco sempre appunto di migliorare e di trasmettere la mia passione per la musica verso tutti. L'iniziativa di risera è stata promossa dalla associazione perfetta Letizia Il Ricavato, sarà devoluto al progetto Music Lab Giovanni Di Geronimo per creare un laboratorio musicale nella scuola di un quartiere gelese particolare come quello di Albani Roccella. Dovrà essere calta acqua a rifornire gli utenti che lo chiederanno in attesa che vengano realizzati sistemi per la fornitura idrica in zone non ancora coperte. Lo dice il sindaco di Gela Domenico Messinese che ha firmato un'apposita ordinanza indirizzata al gruppo Italo Spagnolo che gestisce il servizio idrico integrato in provincia. Dal 2006 il servizio idrico integrato è stato passato al lato idrico e di conseguenza a Caltacqua che gestisce in toto. Però stranamente alcuni rimasugli sono rimasti in modo del tutto inopportuno all'amministrazione come il trasporto delle autobotti. Questo servizio che fa parte della distribuzione dell'acqua deve essere preso da colui che ha preso l'appalto per la gestione del servizio idrico. Anche perché dal momento in cui è stato preso posso capire che in una fase di transizione ovvero sia che entro il 2008 devono essere realizzate tutte le reti magari poteva anche essere un passaggio per evitare dei problemi alla collettività. Ma di fatto siamo nel 2016, sono passati quasi dieci anni ma le reti non ci sono e l'amministrazione ha continuato fino ad oggi a fare un servizio in perdita. I cittadini a chi pagavano? A chi pagavano l'acqua? Fino ad oggi pagavano 25 euro i residenti e 35 euro i non residenti considerando che per ogni autobotte l'amministrazione pagava più di 35 euro solo a Caltacqua per l'acqua. Quindi al comune pagavano al comune i cittadini? Pagavano soltanto una piccola somma che non copriva completamente i costi perché non riusciva a coprire nemmeno il costo dell'acqua stesso. L'amministrazione ogni anno perdeva più di 250 mila euro per quanto riguarda questo tipo di servizio. Quindi un esborso di denaro che di fatto non agevolava i residenti che poteva essere investito per fare le reti idriche. Da oggi chiedo a tutti i cittadini di non fare più versamenti perché non verranno più recapitate dell'acqua perché non si può fare un servizio a perdita. E' stata notificata un'ordinanza dove il servizio dove manca la rete deve essere garantito ugualmente. Di conseguenza Caltacqua deve fare quello che c'è nel contratto ovvero sia garantire il servizio idrico e quindi tutte le azioni in merito o con rete o senza la rete idrica. Per la prima volta 30 associazioni di Gela hanno partecipato assieme ad un bando per migliorare i servizi presenti sul territorio e renderli permanenti. Si tratta di uno dei primi frutti del cantiere Gela. Innovazione, sviluppo e crescita del volontariato è il tema del seminario che ha avuto lo scopo di presentare il bando della fondazione con il Sud dedicato al volontariato rivolgendosi alle reti locali che così facendo potranno presentare programmi finalizzati a rafforzare l'impatto della propria azione migliorando ed ampliando l'offerta, la qualità e la diversificazione dei servizi ai cittadini. In un momento di crisi come questo è importante sostenere chi nel territorio è già impegnato a costruire percorsi di innovazione sociale. Cosa significa? Significa che bisogna aiutare le persone, le associazioni che già vivono in un determinato contesto a crescere e a migliorarsi. Noi abbiamo bisogno di un associazionismo sempre più maturo. Questo permetterà di avere dei servizi nel territorio che siano più umani, più vicini alla persona. E allora costruire insieme politiche sociali significa provare a fare rete. Per la prima volta mettiamo insieme trenti organizzazioni di volontariato che parteciperanno insieme a un bando. Pertanto non saranno tra di loro dei concorrenti ma in realtà degli alleati straordinari per migliorare ancora di più l'aspetto sociale di questa città. La mia presenza vuole sostanziarsi nell'attenzione alle associazioni di volontariato. Associazioni che spesso risultano carenti sotto profili di conoscenze tecniche contabili. Poi hanno oggettive difficoltà nella fase progettuale relativa alla parte economica e nella fase di rendicontazione che darà luogo poi al finanziamento stesso. Le proposte progettuali dovranno prevedere la valorizzazione e qualificazione dei volontari, la sostenibilità dell'intervento, il coinvolgimento di soggetti di natura diversa e l'ampliamento della rete esistente ad altre organizzazioni di volontariato. Ed ancora l'innovatività a livello organizzativo e metodologico, il coinvolgimento di categorie tradizionalmente escluse dalle opportunità di partecipazione sociale come immigrati, anziani e disabili. Il tema è l'innovazione applicata ad un bando che crea una grandissima opportunità per le reti locali di volontariato. Le reti locali che saranno valorizzate da questo bando di fondazioni con il Sud, appunto per potenziare la loro attività nel territorio, valorizzare le loro attività, valorizzare i volontari, quindi che possono acquisire nuove competenze. E questo grazie ad un bando che appunto presenta carattere di innovazione, richiede proprio un livello di organizzativo e metodologico innovativo particolarmente forte. In questo ShipLab cerca di dare il proprio apporto alla Casa del Volontariato e alle reti di volontariato che sono presenti qui. Come superare la crisi economica rilanciando il mezzogiorno attraverso una nuova e moderna industrializzazione del Paese che punti sulle imprese locali? Questi alcuni degli argomenti affrontati durante la prima tappa del Sud Act, un vero e proprio percorso realizzato dall'UGL, l'Unione Generale del Lavoro, che ha visto come protagonisti la vicepresidente della undicesima commissione al lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, Renata Polverini, il segretario regionale dell'UGL, Paolo Capone, l'assessore regionale alle politiche e sociali Gianluca Micicchè e numerose personalità della politica locale e non solo. Ambiente, infrastrutture, fondi europei, turismo, energia, occupazione, welfare, agroalimentare sono le otto priorità e i punti di forza sui quali investire per rilanciare il Sud Italia, sempre più colpito dalla crisi economica degli ultimi anni. Beh, intanto oggi si discute di tutto un processo di azioni da mettere in campo sulle quali purtroppo il governo Renzi si mostra molto assente. Ci sono questioni che riguardano ovviamente il processo infrastrutturale, l'ambiente, l'energia, la occupazione femminile, giovanile, ma più in generale quella ormai dei cosiddetti lavoratori anziani. Insomma, tutte grandi questioni sulle quali questo governo non accenna ad intervenire. Ricordiamo che a un certo punto dello scorso anno mise in campo il cosiddetto masterplan per qualche giorno, anche i giornali del mezzogiorno lo accolsero con favore, ma poi leggendolo ci siamo resi conto tutti quanti che altro non era che un libro bianco, ma soprattutto che non prevedeva investimenti come invece ce ne sarebbe molto bisogno, ma che tendeva in qualche modo a rimettere sempre le solite risorse comunitarie in un circuito virtuoso che però appunto ancora non si vede. Per rilanciare il mezzogiorno c'è assolutamente bisogno di una politica di investimenti, investimenti che vanno dalle infrastrutture, che vanno dall'utilizzo corretto dei fondi comunitari, che vanno dalla ricerca e dallo sviluppo dell'energia verde, che vanno nella direzione di riportare il sud a pari con il resto d'Italia. Il sud è una risorsa per il nostro paese, per tutto il paese e va assolutamente rilanciato, se non cresce il sud non cresce l'Italia. I punti di forza sono un territorio che assolutamente ancora ha un potenziale sia nelle politiche industriali, nelle zone industriali, in Sicilia in particolare, così come sul turismo, così come sulle specialità agroalimentari. Ci sono settori interi che possono tirare veramente l'economia di tutta l'Italia se vengono messi in condizione di poter lavorare e di poter essere utilizzati al meglio. Amatori e cultori di auto d'epoca generano una sede dove potersi confrontare e programmare. Sorge in via Portuense, nel quartiere Fondo Iorza, un vero e proprio ritrovo per chi da sempre è innamorato delle quattro ruote. La scuderia Valvole Pistoni è preseduta da Davide Millauro. Sono già stati avviati rapporti di collaborazione con altri club. Siamo gemellati con altri sette club dell'Isola, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Piazza Armerina e noi di Gela assieme all'altro club autostorico del Golfo che è il presidente Giovanni Sbezzi che appunto fa parte anche di questo gruppo dei G7 cosiddetto. Il presidente onorario è stato nominato Gaetano Minardi. Una vecchia storia, la nostra che è partita 25 anni fa e ancora oggi questa storia continua e continua con Davide, Davide che è un giovane, se così si può dire, il nostro giovane presidente di questo nostro club. Quindi siamo qua perché il club aumenti e anche perché ha fatto delle operazioni assieme agli altri molto importanti di essere confederato con altri club e quindi sta diventando veramente una cosa importante e gratificante per noi. Soddisfazione per l'inaugurazione della nuova sede è stata manifestata dai soci della scuderia. Cosa rappresenterà per Gela avere un punto di ritrovo per gli amanti delle auto d'epoca? Un motivo di incontro soprattutto per tutti i soci, oltre al direttivo, ai fini di organizzare e programmare l'attività stessa del club. Cosa sta bollendo in pentola? Cosa organizzerete al più presto? Tante belle novità e tante cose per far conoscere Gela il più possibile e far ammirare agli esterni il vero volto di Gela, cosa che io ho fatto con i club Maseratisti e ora cercheremo di farlo con questo club. L'8 maggio c'è una bella iniziativa che si svilupperà a Gela. Sì, è l'8 maggio che siamo insieme con gli altri club che visitiamo il museo e il mura del Capo Soplano. Quando e se possibile tornerà a Gela la Targa Florio? Ma la Targa Florio già abbiamo preso dei contatti col Panormus, ce la stiamo mettendo tutta per passare di nuovo da Gela. Questo giro storico di Sicilia che è meraviglioso, è bellissimo, ma comunque abbiamo tanti progetti, abbiamo tanta carne al fuoco e comunque ne vedremo di belle, sicuramente. Grazie a tutti.